Sì, giocano sicuramente con la difesa 3, ormai sono tante le partite che abbiamo affrontato in questo modo ultimamente, anche se poi sono sempre caratteristiche diverse, quindi noi abbiamo il nostro metodo, il nostro modo di difendere, di attaccare e sono convinto che abbiamo anche ulteriori vantaggi perché ultimamente siamo abituati. Allora, io dicevo prima e vorrei che anche il calciatore avessi il mio Stato Danilo. Allora, ho letto che un giocatore che è nazionale da 12 a 13 anni come più su, che sta giocando, anzi, non ho giocato a tenete a oggi, in questo torneo, ha detto che questo è il gruppo più bello in questi suoi 12 a 13 anni. Noi rispondiamo così. Le critiche ci saranno sempre, ci sono le critiche giuste, io personalmente le accetto e mi fanno anche riflettere. Poi ci sono le critiche ingiuste che quelle mi divertono e mi danno motivazione. Poi, perché ci siano critiche ingiuste, perché si vogliono creare confusione, possono essere tante le motivazioni che forse sono uscite più di bene. Quindi, noi siamo uniti, non ci facciamo condizionare, siamo molto motivati. Il nostro destino dipende da noi, come ha detto Irfan, dipende da noi perché non dipendiamo dal risultato di una terza scuola. è solo la partita nostra. Quindi, noi siamo orientati e concentrati per rispondere ancora una volta sul campo, proprio come abbiamo fatto negli ultimi 10 mesi. Non vi voglio ricordare i vari record che sono stati fatti negli ultimi 10 mesi da questi ragazzi che vanno rispettati e sostenuti ancora. Io, personalmente, sono sotto pressione da 17 anni, anzi da quando ero più piccoli. Sono più di 30 anni che sono sotto pressione. Le pressioni fanno parte del nostro lavoro, le pressioni bisogna sapere gestire. Sono pressioni positive perché giochiamo per un traguardo importante. quando ho preso la nazionale probabilmente si aveva il timore di non riuscire a qualificarci. Non solo ci siamo qualificati in un turno d'anticipo, ci siamo qualificati da prima in classifica. Siamo arrivati qui, il nostro obiettivo è qualificarci, come primo obiettivo. abbiamo vinto la prima partita e non era mai successo nella nostra storia. Domani abbiamo un'opportunità importante. Siamo in linea con i nostri obiettivi. Dipende da noi. Siamo positivi. Siamo pronti a combattere. Sono centri dei nostri diffusi. Quei livelli sono il 99,9%. Saranno con noi e ci sosterranno dall'inizio alla fine. Vorrei ricordare ai critici che questa è la nostra questione. se volete bene una nazionale, sostenete questa squadra finché è possibile. Non ci sono altre nazionali. Questa è una nazionale. Questa è una squadra che rappresenta il Paese. Questa è una squadra che ha dato questi ragazzi che hanno dato grandi soddisfazioni in questo periodo. Abbiamo bisogno di sostegno. E penso anche che i ragazzi lo meritano per quanto hanno fatto giusto. in questo periodo. Ok. Risolviamo ancora anche quest'altra diatriba che è creata ad hoc. Il ragazzo non era in grado di sostenere un minutaggio prolungato. Si intende? Giocando dal primo minuto dell'ultimo partito. Ma questo non è che l'ho deciso io. Ho deciso la parte medica e il ragazzo. quindi poteva sostenere senza correre rischi un determinato numero di minuti che poi è stato maledetto. Sempre il giorno successivo, questo famoso video che è venuto fuori, d'accordo con la parte medica, il ragazzo mi hanno trasferito che non poteva sostenere degli sprint prolungati come quell'esercitazione preparata richiedeva. Quindi evidentemente il ragazzo si era dimenticato che tipo di esercitazione fosse e pensava che dovesse stare dentro. Ma al momento in cui ha capito e ha visto che era un'esercitazione che non poteva sostenere per non correre rischi inutili, ha fatto il lavoro programmato. sono due giorni che si allena, il ragazzo è a disposizione e se non giocherà sarà per scelta tecnica e me ne assumo io la responsabilità sempre. Quindi l'ultima partita non è scesa in campo dal primo minuto non per scelta tecnica. e a proposito di più, e a proposito di più, è un'esercitazione. Grazie.